Abbiamo appena ascoltato il Vangelo della quarta domenica del tempo ordinario, un episodio molto particolare. Gesù che dopo aver chiamato i primi discepoli giunge con loro a Cafarnao e subito, interessantissimo, subito Gesù entrò di sabato nella sinagoga, come una priorità assoluta, sabato nella sinagoga. Insegnava. Ecco, dalla vita pubblica di Gesù vediamo che Gesù ogni volta che entra nella sinagoga entra per insegnare, non più per pregare, non più per imparare, quasi come se volesse essere lui in persona una novità per la sinagoga stessa, un cambiamento, dove arriva Gesù qualcosa di nuovo deve avvenire. E la novità avviene perché in quel giorno, mentre lui insegna, nota un uomo, un uomo con uno spirito immondo. Quando accade questo? Mentre insegnava, e tutti erano stupiti del suo insegnamento, egli insegnava come uno che ha autorità, non come gli iscrivi. Che significa uno che ha autorità? Uno che dice, io vi dico, io vi dico, mentre gli iscrivi non facevano altro che fare riferimento a precedenti sapienti, no? Ai patriarchi, ai profeti. Erano sempre citazioni di altri. Addirittura lo scriva era autorizzato, era l'unico autorizzato a spiegare le scritture, a comprendere le scritture. Si diventava scriva dopo un notevole studio, bisognava raggiungere quasi 40 anni, quindi essere già anziani. E inoltre, quando dicono non come gli iscrivi, perché gli iscrivi avevano anche un'autorità, un'autorevolezza nell'interpretare le scritture. E nel Talmud, che è il libro sacro degli ebrei, addirittura c'era scritto, quando uno scrive da una sentenza diversa da quella della Bibbia, credi allo scriva e non alla Bibbia. Pensate che potere. Eppure non avevano quell'autorità come quella che manifestava Gesù. Perché? Perché era accompagnata da una verità. Perché Gesù dava proprio la sensazione che quel suo insegnamento apparteneva alla loro vita. Dava la sensazione sicuramente che qualcosa di divino, di infinito, era dentro di loro. Sì, un'esperienza molto forte, non legata più a quelle proibizioni e a quei comandamenti, a quel modo di come erano abituati a recepire la parola. Ricordate, avevano 613 precetti, di cui 365 proibizioni e 248 comandamenti. Perché 248? Perché secondo la loro scienza era il numero delle ossa di una persona. E allora cosa significava seguire i precetti? La totalità della tua persona, tutti i giorni dell'anno, deve mostrare osservanza alla legge, fedeltà alla legge, obbedienza alla legge. Ma non un'obbedienza di chi audire, cioè ascolta, comprende. No, ma di chi deve eseguire un ordine. Ecco, Gesù ha tutto un altro stile. E quindi questo stile è accattivante. Perché è uno stile di amore. Dio vi ama tutti. A prescindere dai vostri comportamenti, a prescindere da ogni cosa. Dio è amore. Questa cosa era una novità assoluta. Dava serenità alla persona, mentre la legge dava inquietudine. Nessuno era perfetto, nessuno. Tutti manchevoli, costantemente davanti a Dio. Solo ad alcuni era riservata chissà quale perfezione. Ecco, quindi era più un'angoscia la religione che una pace, una serenità. E mentre Gesù trasmette questo, ecco che in quella sinagoga, la loro sinagoga, no? La loro, quella di quella mentalità, quella di la religiosità, quella di quegli scrivi, quella, quella, la loro sinagoga. Quindi non la sinagoga di tutti, eh, notiamo. Un uomo. Questo anonimato è bellissimo. Perché l'anonimato nel Vangelo significa che ognuno può mettere il proprio nome, può mettere la propria persona. Posseduto. Ma da che cosa era posseduto realmente? Da quelle idee religiose, da quel sistema, da quella modalità di vivere la fede che non era quella che Gesù voleva manifestare. Quindi una contraddizione. Lì c'è una possessione, forse non proprio di uno spirito in quanto diavolo, ma di una modalità di vita. Questo è il significato del Vangelo. A volte noi siamo schiavi di una mentalità, schiavi di una situazione, schiavi di un pensiero, schiavi di una logica. Stiamo attenti perché Gesù viene proprio a scardinare, ad eliminare questa schiavitù. Ecco, a quei tempi che cosa si pensava? Che quando uno aveva un comportamento particolare era posseduto da qualcuno che gli entrava dentro e gliela faceva pensare come diceva lui, gliela faceva credere come credeva lui. E molti erano lì solo per vedere il comportamento di Gesù. Questo spirito impuro che si era impossessato di quest'uomo stava generando una situazione di attenzione particolare al comportamento di Gesù. L'uomo comincia a gridare. Sì, è tipico dei demoni gridare. Ma perché si scatena? Gesù non gli sta dicendo niente. Mica gli sta dando fastidio. Mica gli ha puntato il dito. No, Gesù sta insegnando. Sta insegnando Dio amore. E quindi quest'uomo che è impossessato di un'altra mentalità, di un'altra realtà, non può che reagire violentemente. Per anni avrà frequentato la sinagoga e tutto era tranquillo. Perché? Perché quella schiavitù della fede faceva comodo anche allo spirito impuro. E lui era padrone di chi voleva e di come voleva. Invece questo Gesù viene a rovinarci. Lo dice lui stesso. Lo dice lo stesso questa voce. Cosa vuoi da noi? Cioè fatti gli affari tuoi. Questo praticamente dice questo spirito che parla in quest'uomo. Sì, è chiaro che c'è un fastidio nell'insegnamento di Gesù. Un fastidio per tutti quelli che non la pensano come lui, soprattutto tutti coloro che sono i suoi avversari. Mentre l'uomo deve riappropriarsi di una sua identità precisa, di un suo pensiero, non del pensiero degli altri che possono impossessarsi di lui. Viene definito Gesù Nazareno. Quasi quasi a volerlo già disprezzare un po', visto che Nazareno significa rivoltoso. Cioè tante cose abbiamo già detto tante volte. E lo definisce il santo di Dio. Cioè un nuovo Mosè, una nuova guida. Cioè già vuole che le persone lo riconoscano per la gloria delle cose di questo mondo. Sei il santo di Dio, sei il nuovo Mosè. Tutti gli devono dare gloria. Così logicamente sarebbe crollato in quello che doveva essere invece la sua missione. Avrebbe fallito se lo avessero riconosciuto e dato le glorie del mondo. Ma là il male, il diavolo o tutta una serie di mentalità è schiava della gloria del mondo. È portata alla gloria del mondo. Desidera la gloria del mondo. È latente questa tentazione in tutti, tutti, tutti. È questo che Gesù deve scardinare. È questo che deve eliminare. Gesù dirà che è venuto a servire, non ad essere servito. A donare la gloria di Dio, non a dare gloria agli uomini. Sei venuto a rovinarci. Cioè sei venuto a distruggerci. Sei venuto a distruggere il nostro pensiero, il nostro modo di essere. Tu sei il santo di Dio. Quindi devono lodarti, devono glorificarti. E che cosa fa Gesù? ordinò severamente, ordinò severamente, taci, taci. Perché il diavolo non deve mai parlare. Perché ogni volta che parla mente. E se non mente lo fa per un doppio fine. È sempre pericolosissimo. Vieni fuori. Sì, esci fuori mentalità. Esci fuori modo di essere. Esci fuori in tutto quello che non è conforme a ciò che dico io. E lo spirito impuro, straziandolo, gridando forte, esci da lui. Ma è logico. Quando tu hai vissuto sempre con un pensiero, con una cosa. È logico che quando te ne devi disfare, è uno strazio interiore. È un combattimento interiore. Ecco, quindi questo straziandolo non è tanto una questione fisica. Ma una questione di un cambiamento che esige una sofferenza. Esige un sacrificio. Certo. Quindi, è proprio importante che ci sia questo strazo. Il combattimento interiore. E lui gridava forte in questo modo. Cioè, la battaglia che avviene nell'uomo. La tribolazione. Perché ogni cambiamento, ve lo ripeto, è un combattimento. Tutti furono presi da timore. Ma timore non di paura. Ma una sorpresa. Una sorpresa piacevole. Come quando si dice, wow, capito? Cioè, è proprio una grande sorpresa. È un insegnamento nuovo, sì. È un insegnamento nuovo. Ma questa parola, nuovo, non è nuovo che se ne aggiunge ad altri. No, è nuovo che sostituisce tutti gli altri. Cioè, è una novità assoluta. Non serve più quello di prima. Quello di prima è una base che ci permette adesso di comprendere questa novità. E questa novità noi vogliamo scegliere. Perché questo è Dio. Questo è Dio. Un Dio che libera. Un Dio che non obbliga. Un Dio che non ti obbliga ad eseguire un comandamento. Ma è un Dio... Sì, sì. Gesù non ci chiede di obbedire a Dio, ma di assomigliare al Padre, che è un'altra cosa. Sì, è proprio un'altra cosa. Assomigliare al Padre. Questo ci chiede Gesù. Non obbedire. Poi, d'altronde, quando darà il suo comandamento, un solo comandamento, è una proposta di vita, di uno stile di vita. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi, che cosa vi comando di assomigliare a me, di assomigliare al Padre? Questo è fondamentale. E la sua fama si diffuse subito, dovunque. Certo, l'insegnamento di Gesù di Laga e gli iscrivi non staranno con le mani in mano, si vendicheranno. Inizieranno subito, immediatamente, a riflettere come poterlo uccidere. Sì, e più avanti vedremo che effettivamente erano proprio loro impossessati di uno spirito impuro. I loro insegnamenti sono lo spirito impuro. E cosa faranno? Diranno che Gesù è impossessato di uno spirito impuro. Ecco, proprio come a mettere in evidenza un qualcosa che non è conforme assolutamente al loro modo di pensare. E Gesù lo sottolinea sempre, che quella differenza che gli iscrivi riconoscono in Gesù, in realtà, è proprio la differenza che lui vuole far comprendere. Sì, è come se tutto poi tornasse ad essere contro. Quasi un autogol degli iscrivi, dei farisei, dei maestri della legge, eccetera, eccetera. Ecco, allora, in questa domenica, in questo episodio, nella sinagoga avviene ciò che deve avvenire in noi quotidianamente. Un ascolto della parola che deve purificare le nostre realtà, il nostro linguaggio, ma soprattutto la nostra mentalità.